salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio di ninja classic oggi c'è di nuovo il growth plan è christmas carnival allora christmas carnival non so se ve l'avevo fatto vedere un attimo un'altra volta mano a mano che aumentano e passano i giorni ci avviciniamo a delle aperture e qui di nuovi eventi oggi infatti si è aperto il mystic equipment arrives che fa praticamente inserisce un albero da coltivare e dei titoli che si sbloccano al secondo del livello a cui noi riusciamo a far arrivare l'albero mano a mano che l'albero aumento di livello ci si sbloccano ci sblocca la possibilità di comprare degli oggetti che variano da normali super potency pill a accessori stage oppure set christmas che è un set abbastanza forte però comunque costerebbe in ogni caso tanto da comprare poi c'è questo che non ho capito upgrade from level one to two to receive one equipment and accessory boxes e non ho capito se questi sono proprio sicuri o no quindi andremo a vedere l'albero si può far crescere sia con i silver mi ha dato 60 punti e probabilmente c'è un timer qui sotto solo che è bancato tutto quando non si vede e poi c'è la possibilità di avere un tentativo che ovviamente utilizza gold quindi da più di più di growth points del silver e ci danno un tentativo ogni mille gold la cosa positiva è che dato che c'è anche il growth plan e il tent e il serais adesso noi praticamente ci riempiamo di coupon e aumentiamo di un bel po l'albero perché perché dovrebbe contare adesso faccio una mi tolgo un attimo dalle palle le le daily al volo redeem ma mamma 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 ma la faccio dopo che tendo stupi anzi facciamo tanto ci vogliono 15 minuti ok poi andiamo sul mondo il mio boku qui aumentiamo i support 1 2 3 4 5 utilizziamo le ferie da quasi fatto pebbiamo daily benefit free retrieve retrieve alcohol technique training harvest reset training harvest reset training harvest reset training harvest reset training harvest ritmatch toast apposto poi sono saralendo non posso in realtà posso però toccare pratica 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 e pratica poi six path arcanum no clay mall ok facciamo così 3 2 1 a posto quasi arrivato la penultima stella stella vabbè l'ultimo pallino cincere che awakening ci sono i tentativi giornalieri li facciamo 9 10 11 12 a posto cos'altro rimasto forbido in jutsu e non riesco vediamo un attimo se riesco non so con quale criterio riesco buono 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 vediamo vediamoci un attimo il combattimento perché questi qua facevano malissimo ma oggi è andata di culo a toneri e ha fatto la skill e ha bloccato qualcuno tipo tutti quanti tranne kitomaru perché credo non possa essere bloccato kitomaru oppure sono leggermente più forti i miei e quindi si sono salvati proteggendo toneri e facendogli fare vediamo infatti le bloccati tutti tranne due e così ci siamo riusciti un po a salvare per fortuna anche se i miei vengono bloccati toneri che è talmente forte li debuffa gli toglie tutti i debuff che hanno quindi se mi pare o il mio main o 8 gates guy non ci ho fatto caso era stato bloccato e con toneri siamo riusciti a togliergli il debuff e funziona anche con il debuff che si dà guy che gli toglie la difesa se attaccato neri glielo toglie guardate non ce l'ho più ottimo soprattutto quando arriverà in nata uzumaki vediamo kimimaro no kimimaro è troppo forte cioè ho appena abbattuto kinomaru mi faccio i cazzi miei e mi prendo i miei materiali ne ne mancano uno me ne manca no non so come funziona se conta il 14 no forbi den jutsu andiamo qui ne abbiamo 145 utilizziamo si bam 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 ok 2 1 0 a posto aumentato di 2 3 mila battle point samsara 3 la lasciamo perché tanto non lo riesco a finire arrivo tipo 8 di 10 e basta allora torniamo a noi il tenta il sarai come ho spiegato l'altra volta cita dei coupon a seconda dei gold che spendiamo e vale anche per il growth plan quindi noi intanto facciamo così country of wind bam 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 abbiamo fatto mille gold circa ci prendiamo i nostri coupon che sono già 1500 e adesso è ok e prendiamo anche questi pack è ok e ok ora adesso andiamo a giveaways c'è anche qualcosa che ha giusto buono 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 top up non lo farò quindi niente prenderemo questo qui e basta ora vediamo se possiamo già fare qualche tentativo infatti due tre quattro nove dovremmo farne abbiamo spesso 9600 gold bam 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 livello 2 albero livello 2 ci ha dato 1 e 2 ci ha sbloccato i due pacchetti ah anche a fine qui si arriva reincarnation pack per comprare il bisogno di 3000 gold c'è scritto eh 250 gold sono pochi ma 5 potency pill sono sono inutili le potrei comprare 20 volte ma costano tanto quello volevo dire legendario exp book 3000 ma quanto costano ste cose posso capire pet exp che ci dà 500 runestone più o meno ci exp però e led gear costa tanto madonna io sono qui e farò questo evento solo perché è collegato al growth plan e me lo conta se no non lo facevo allora arriviamo al nocciolo della questione questo costa 40.000 gold lo compriamo anzi il pacchetto ci dà ripetiamo livello 7 jade box per 5 buono 12 basic fury jade weapon enhanced talisman per 22 treasure talisman per 50 challenge challenge nailing scroll 50 sopra il fine pill 40 quindi noi adesso lo compriamo si sbam e abbiamo avremo i nostri 80.000 gold nei prossimi 20 giorni c'è da 700 coupon a posto qui a giveaways prendiamo il nostro quello che ci spetta e su 10 tells arrive abbiamo finito tutto o no quanto ci manca 1000 gold cazzo ebbè forno ci rispendo vediamo oh adesso c'è un bel po' di tentasi vediamo se riesco ad arrivare al 3 al 5 minimo non lo so claimiamo magari sarebbe avessi un po' di culo mi desse ah vabbè ovviamente infatti non so se riesco ad arrivarci a 5 vediamo ma a 4 si ma no a 100 ma anche a 4 oh e mo ce li spendo 100 e altri 100 ok livello 4 oh 3 maradati no mannaggia vabbè che sto titolo fa cacare non è che cambiava molto pet exp eh exp pack vabbè sono inutili questi allora io non ho intenzione di arrivare al 5 quindi eh vediamo quanto mi manca per prendere l'ultimo pack ah mi dà 888 coupon 49800 mi mancano 200 gold eh 200 gold andiamo nella mall nel mall che cosa c'è oggi lo schifo jade non credo conti oh si non mi ricordo proviamo compriamo tipo una jade io lo 4 compriamo tipo una g jade costa 100 o compriamo le 2 si funziona ok a posto ora abbiamo 4800 gold coupon buono molto buono e avremo abbiamo qualcosa di interessante qui a parte growth fund 5 pack che lo andiamo a prendere subito prendiamo i gold soul prendiamo il 300 talisman che c'è 129 cattivissimo 300 talisman ah sono rifanno in pill li usiamo un attimo ok poi che no qua bag vabbè questo che qui ha cose normali non le uso tipo che mi metto sale super potenzi pill vi faccio vedere altro qui ci siamo riempiti di roba dovremmo avere l'ice treasure e l'ice jvoli e lo abbiamo allora in questi set ci può essere o una parte dell'effettivo ice set o sage jewelry accessory o no e molto probabilmente non lo sarà però abbiamo la possibilità nell'ice di trovare a parte il set 5 jade box yellow 5 jade box some star stone feather crystal super weapon and a stalisman super potenzi pills anche jade porcate vediamo se abbiamo culo troviamo un set no vediamo se abbiamo culo nel set jewelry no vabbè poi tanto erano gratis apriamo i pack e vediamo quante jade riusciamo ad ottenere a me servono delle jade fury per forza questi sono 7 forse ovviamente fury non fury no perché non poteva essere troppo bello epic material epic material ora abbiamo comprato il growth plan oggi abbiamo ad oggi abbiamo 2000 gold me ne servono circa di solito funziona così 50 50 mila per arrivare ad un numero tale che mi permetta di prendere un ninja di quelli proprio degli eventi tralasciando il fatto che non dovrei perché poi mi ritroverei con 30 mila rimasti e mi toccherebbe caricare i soldi veri per ritornare a 40 mila non credo sia proprio il caso in ogni caso vediamo come funziona perché potrebbe anche essere fattibile però non è sicuro il 27 arriva cioè tra 5 giorni tra 5 giorni io avrò 12 mila no avrò 22 mila gold non è non è niente 22 mila gold non ci faccio niente quello intendo poi arriva fino il dovrebbe rimanere fino al primo gennaio al 5 gennaio quindi al 5 gennaio sono una due settimane 14 giorni 14 giorni sono 40 56 mila gold eh se ce la faccio dovrei riuscire all'ultimo secondo di giorno a comprarlo il ninja a meno che non mi posso avvantaggiare in modo in modo free così si spendo di meno e nel caso spendo di meno sarebbe meglio la cosa ma non è sicuro che riesco a spendere meno di 50 mila gold l'unico obiettivo è l'unica speranza è che abbiano deciso di abbassare il prezzo del ninja dato che è natale sarebbe solo quella sarebbe la cosa che mi potrebbe dar gusto quello io voglio dire quindi una donna faccio i video di mattina e dormo quindi comunque in ogni caso buono che ci abbiamo di nuovo il growth plan prima del previsto perché era appena finito ho comprato toneri ma la prossima volta oppure potrei no perché questi scadono prima questi scadono il 26 quindi no però comunque ninja sto per dire potrei comprare qualcosa ninja treasure ma non lo faccio perché a parte che c'è solo la merda ci hanno messo cuscina come ultimo ninja nuovo e non è cioè è buona però siccome è uscito un rochimaru non ha senso comprare cuscina quando c'è orochimaru inoltre penso che al prossimo persian merchant lo mettano orochimaru credo non sono sicuro ma che ne puoi sapere ah abbiamo anche questi 300 gold gratis c'è altro da prendere qui legato alla mia spesa non lo so juby presents no questi sono collegati a quanto cazzo di soldi gli dai io non c'ho voglia e quindi non gli darò proprio un cazzo ninja treasure no ninja gift ninja gift è sempre stato buono proprio tanto se voi caricate 8000 gold ve ne danno 6000 è tanto è la cosa ovviamente più caricate più vi da un bonus maggiore è forte quella era l'unica cosa però top up e ne mount quindi io volendo non lo farò oggi perché voglio vedere che ci sta i saldi steam se non c'è niente di particolare i saldi steam carico tipo 5 euro 5 euro che sto 5 dollari che sto meno di 5 euro tipo 4,80 e mi prendo questo fortune pack che mi da force jade che a me serve no force jade mi serve fury non c'è quindi non lo prendo ok abort abort torniamo un attimo a noi vediamo se riesco in qualche modo ho sbagliato se riesco in qualche modo continuo a sbagliare a prendere le jade e a farci qualcosa di serio allora vediamo innanzitutto sintetizziamo come i matti 5 queste le lasciamo così perché ci sono dei ninja che le hanno così quindi modifico quelle piuttosto che farne una qui lì allo 7 force jade buono chakra vediamo che ci esce oh c'è c'è una lì all'8 chakra buono power jade niente di particolare hit jade livello set hit jade potrei fare la 8 o dare la 7 in giro ora vediamo però prima fatemi sintetizzare tutto questi sono il crit a me serve un'altra un'altra jade fury me ne servono due livello 8 se non sbaglio se riesco a farle posso portare toneri a 100 di fiori appena arrivato cioè appena entri nel match c'è 100 di fiori che è tanto però non sono assolutamente sicuro dato che qui abbiamo una mega fury siccome allora toneri mega fury mega tutte mega dimmi che tutte mega ok allora adesso fondiamo questa e la facciamo diventare special è ok a questo punto parte il fatto che a sto punto c'è c'è 99 di di fiori sicuro facciamo un attimo così e lo 7 e lo 6 facciamo così facciamo due spazi quindi noi facciamo due di livello 7 due di livello 8 lo mettiamo qua sbam poi quella di livello 6 la mettiamo da un'altra parte chi se ne frega posso sintetizzare qui posso sintetizzare adesso ah questo è un livello 6 ne facciamo una di livello 7 da fondere in giro beh è un ottimo bottino abbiamo fatto se mi fosse uscito qualcosa adesso mi manca soltanto un'altra da 6 che ci faccio una da 7 e poi due da 7 cioè poi un'altra da 7 quindi mi servono ancora tipo ancora 12 fiori jade però sono abbordabili ormai le fiori jade appena c'ho modo che le trovo che le trovo nel nel mall di solito ci sono qui nel daily best purtroppo qui le jade non le vendono dovrei comprare dovrei comprare jade pack ma non mi conviene perché questi da tutte le jade e cosa di più mentre mi serve solo la la fiori a me vediamo eh comunque toneri a questo punto ci avrà 99 qui abbiamo il chakra sono tutte all'otto no quindi ci togliamo questo e li mettiamo qua queste sono due da 7 perfetto bam una da 8 adesso c'ha un macello di chakra è fortissimo poi cos'altro ha le hit le hit mi servono tanto abbiamo è in possesso di livello 6 quindi innanzitutto noi abbiamo due livello 7 ne togliamo due e gli mettiamo quella da 7 poi togliamo un'altra da 6 e ne facciamo due da 7 bam e aumenta dovrebbe aumentare di abbastanza due da 7 poi abbiamo un'altra da 6 e ne facciamo una da 7 così c'è quasi tutte tutte jade da 7 di hit tranne l'ultima che è da 6 niente di particolare allora poi agility ah non l'ha l'agility crit ne ho tolta una qua volendo potrei fare un buco ma non voglio per il semplice fatto che poi non posso fare l'inerit perché se non hanno tutte e due gli stessi buchi non posso fare l'inerit ma se io fortify ah giusto si blocca con fortify eh eh e mo so cazzi vabbè ci conviene chiudere qui perché tanto quello che avete visto che volevo farvi vedere l'avete visto gli eventi di natale sono quelli christmas carnival è quello il 27 c'è un nuovo ninja il nuovo pet vediamo come si prendono almeno prendo il pet cioè proprio non posso prendere il ninja che ne so se il pet costa 40.000 prendo prendo il pet e basta eeeh che altro basta ci vediamo al prossimo video che probabilmente sarà appunto il 27 dove vi farò vedere il nuovo ninja il nuovo pet quindi arrivederci al prossimo ciao